Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 del Digitale Terrestre. Tutte le mattine da lunedì al sabato c'è la rassegna stampa, daremo un'occhiata ai giornali e lo faremo tra un istante con il nostro touchscreen, vedremo quali sono i titoli delle notizie più importanti sul Corriere Adriatico e il resto del Carlino, le edizioni della provincia di Pesaro e Urbino. Ma come di consueto noi cominciamo la rassegna stampa con la lettura del calendario e diamo uno sguardo al santo del giorno, il santo di oggi è Sant'Ilario di Poitiers. Il sole è sorto alle 7.39, tramonterà alle 16.54 minuti. Prima di andare, no anzi andiamo a vedere subito le previsioni del tempo, questa è la nostra stazione meteo, sopra la nostra sede qui a Fano abbiamo installato un osservatorio meteorologico che ci dà in tempo reale, vedete questo è il dato aggiornato alle 7.28, in tempo reale ci dà alcune informazioni utili per la giornata e subito balza all'occhio per esempio la temperatura in questo momento, le 7.28 sono quasi 15 gradi, quindi nulla a che vedere rispetto alla giornata di ieri quando avevamo addirittura meno 3 gradi, quindi c'è uno sbalzo termico di quasi 20 gradi, 17 gradi, una cosa 18 gradi, una cosa sembra quasi incredibile, pure così, 18 gradi di differenza rispetto a ieri mattina alla stessa ora. Oggi sono 15 gradi, quindi si può davvero uscire quasi in maniche corte, però attenzione perché c'è vento, vedete la velocità è di 17 km orari, ma la situazione sta per cambiare. Guardate la fotografia del cielo, questa è la webcam sempre della nostra stazione meteo, punta su Fano, ma dicevo le cose stanno per cambiare, infatti il vento che adesso soffia da sud, con raffiche anche di vento forte, in rapida rotazione questa sera con raffiche fino a Burrasca sulla fascia costiera e arriveranno da nord-est, ecco perché le temperature poi diminuiranno e quindi vedete dalla grafica c'è anche la possibilità di pioggia mista a neve un po' su tutta la regione. Questa è la fotografia di oggi venerdì 13, ma quella di domani, sabato 14 gennaio, vedete ancora cielo nuvoloso, non ci sono precipitazioni, le temperature però sono in diminuzione. Domenica il tempo cambia ancora, le temperature saranno stazionarie però dalla mattinata di domenica ci saranno delle precipitazioni, delle nevicate in progressivo calo fino alla pianura, fino a quote pianeggianti e i fenomeni saranno più insistenti nelle zone interne, vedete dove nell'Apenino piove, qualche sforamento potrà arrivare anche sulla collina, non dico sulla costa, ma insomma poi bisognerà vedere, non è che uno mette le barriere, quindi quello che viene, viene. Il tempo poi però cambierà tutta la prossima settimana, tutta la prossima settimana il tempo cambierà e avremo anche nevicate, nevicate tutta sulla nostra provincia, sulla costa, insomma sarà una settimana da tenere davvero sott'occhio. Però questa mattina vogliamo aprire la finestra su un luogo a noi molto caro, il mare, Fano è una città di mare, Fano è una città che ha lo sbocco appunto sul mare e questa mattina vogliamo andare al porto di Fano, al porto di Fano dove c'è Lino Balestra, il nostro Lino Balestra che è in collegamento con noi, vedo che già si è coperto bene, insomma c'è rientro e ritorno dei pescatori mi pare, no? Sì Marco, buongiorno a tutti, siamo qui per realizzare un servizio per il telegiornale di questa sera che verterà sul mondo della marineria, in particolare sulle vongolare. Adesso stanno scaricando le vongole, sono rientrate le 39 vongolare, adesso qui se l'operatore Filippo Pucci fa un rapido giro di camera, vedete tutti i bancali sono a terra, ogni bancale contiene 40 sacchi di vongole e quindi insomma ormai l'attività è quasi chiusa, quasi tutti i pescheri ci sono rientrati, noi adesso faremo qualche intervista, documenteremo il tutto, alle nostre spalle oltre al muletto c'è uno splendido panorama e quindi insomma per adesso è tutto e vi rimando al servizio di questa sera sulle vongole. Grazie, ci vediamo stasera per il telegiornale e quindi stasera ci sarà questo servizio che ci mostrerà, forse ci torneremo a collegare con Colino anche più tardi per i saluti. Noi adesso invece andiamo a vedere, forse avevamo anche una camera larga da far vedere se il regista ce la mostra, ecco una volta ce l'avevamo la telecamera larga, eravamo d'accordo per mettere la camera larga però, allora andiamo a vedere la pagina di Pesaro del resto del Carlino, torniamo qua, grazie. Stufi di freddo, questo è il titolo del resto del Carlino, la pagina di Pesaro, vedete? Al campus si rompe il riscaldamento, protesta agli studenti, stanchi di stare nel freezer, dicono, e quindi protestano. E' una cosa ormai chi di noi ha fatto, cioè è un classico protestare per i termosifoni, i cosiddetti termosifoni rotti e lo sciopero puntualmente scatta tutte le volte che c'è il freddo nelle aule. Trova la moglie e i quattro figli svenuti, rischiata la tragedia del monossido, riscaldamento chiuso, usavano un bracere e delle coperte, è successo Pesaro, tutti sono finiti poi nella camera iperbarica. Ancora dal resto del Carlino, siamo nella pagina di Fano, Battistini, licenziamento cancellato, il Tribunale dà ragione all'ex coordinatrice dell'ambito sociale, il tempo è galantuomo, ho dimostrato che il licenziamento disciplinare era ingiusto, ma non voglio essere reintegrata, non ho intenzione, dice lei, di lavorare più in quell'ambiente. Così appunto Sonia Battistini. Fano solidale con i Notaro, Jessica è sorella di Massimo, la ragazza sfregiata con l'acido, anche Fano è colpita dal dramma di Jessica Notaro, la missa riminese sfregiata con l'acido, tutta la città si stringe attorno alla famiglia Notaro in un caldo abbraccio, e il cognome è molto noto in città, appartenendo anche al comandante Massimo Notare, titolare della Eagle Aviation. E adesso la pagina principale di Fano con la protesta di Ponte Sasso per l'arrivo dei migranti, eccola qua la pagina, noi di Ponte Sasso non siamo razzisti, però non riempiteci di profughi, i residenti chiedono maggiori garanzie sugli arrivi programmati. E ancora Ponte dei Cacciatori, siamo a Durbania, la ditta che ha sospeso i lavori si dovrebbe presentare sul cantiere per una verifica, dunque non ci sono ancora novità sulla situazione dell'avanzamento dei lavori sul Ponte dei Conciatori di Durbania, da giorni infatti gli operai della ditta che esegue i lavori per la riapertura del ponte non sono più al lavoro. A Cagli invece, ospedale e comitato rilancia la lotta, intanto ci sarà un incontro tra i vari dirigenti sanitari. Andiamo a Sant'Angelo in Vado, la fusione dei comuni diventerà urgente, lo dice il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gian Alberto Luzzi. La pagina di Urbino, il gelo del PD sulla riforma dell'Ersu, Piero Sestili, avevamo chiesto più tempo per modificare la legge, a Urbino si teme che la nuova normativa sia solo penalizzante. Abbassiamo per favore l'audio in studio della Teradec, grazie. Andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico, la pagina principale, Banca Marche, tutta di Ubi, esuberi e filiali, pronti i tagli. Il 17, Banca Italia darà il via libera all'offerta del gruppo Lombardo, sul prezzo ancora c'è incertezza, un euro, non si sa. E a centro pagina invece l'emergenza freddo, famiglia intossicata, bracere acceso in casa, padre, madre e quattro figli sono ricoverati, grave il figlio più piccolo. La pagina di Fano, l'ex convitto, una risorsa per via Cavour e per l'intera città, l'assessore punta ad un accordo con l'Inps, l'area utile per un capiente parcheggio che potrebbe diventare utile appunto per il centro storico. Revocato il licenziamento invece di Sonia Battistini, anche questa notizia trova spazio sul Corriere Adriatico, il Comune raggiunge un accordo con lei e le paga anche le spese legali. L'ex coordinatrice dell'ambito sociale dice cancellata una macchia, ora sono fiduciosa. Quei numeri sono carenti, sempre dalla pagina di Fano, non sappiamo cosa è bruciato. Il Comitato di Bellocchi replica l'Arbam, il Sindaco non ha risposto sugli incendi. E poi ancora dalla Valle del Cesano, rimossa la prima bomba a San Costanzo, ma la seconda è a rischio. Gli artificieri dell'esercito hanno iniziato la bonifica della strada Orcianese e Cerasa. Poi ancora dalla Valle del Cesano da Pergola, distribuzione delle medicine più efficiente con la cassetta. L'Asur replica sull'uso della buca delle lettere dopo la protesta per la farmacia soppressa. Open day, domani le scuole aperte a Fratterosa, tutte le scuole montessoriane. L'istituto comprensivo adotta il metodo dell'illustre pedagogista. E ancora da Senigallia, troppi abusivi nei parcheggi. Ora diventano portieri illegali. Dopo l'abbonamento in nero per le auto, c'è chi apre e chi chiude le porte dei negozi. Da Pesaro, invece, termosifoni in tilt, aule di ghiaccio. Studenti e presidi protestano. Alcuni alunni sono tornati a casa, altri hanno messo in scena un flash mob. I dirigenti dicono, ecco di chi è la colpa. Bracere acceso in casa, famiglia ricoverata. Il dramma per madre e padre e quattro bambini dai sei ai due anni, residenti a Vismara. È rimasta intossicata questa famiglia ieri dall'esalazione di monossido di carbonio causate dalla carbonella di un bracere rimasto acceso. Sono tutti di origine marocchina, ma da dieci anni abitano a Vismara. L'allarme è stato dato alle 15.30. Sempre da Pesaro, il Corriere Adriatico, pazienti in barella per oltre 24 ore al pronto soccorso, parcheggiati così 20 malati al giorno. La CGL accusa, mancano 80 posti letto. La segretaria punta il dito contro la riforma sanitaria con l'avvio dei PAT e i rapporti con i privati. Per Ricci manca una strategia costi-benefici, pergola più efficiente del Santo Stefano. Questa è la notizia sul Corriere Adriatico. Direi che possiamo fermarci. Non so se Lino Balestre è ancora collegato con noi dal porto di Fano. Eccolo qua. Lino, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, conferma di quello che dicevi durante le previsioni del tempo, il vento da sud sud est era abbastanza intenso e ha creato qualche problema anche ai vongolari. In questo momento si sta intensificando e sta piovendo. E quindi, insomma, dobbiamo abbandonare la postazione, però il servizio l'abbiamo realizzato. Stasera, belle immagini. Insomma, vi rimando al TG di questa sera con lo sfondo dei nostri quadri del porto di Fano. A stasera. Ed è tutto. Grazie per aver seguito Occhio ai giornali. Appuntamento alle 20.30 con Occhio alla notizia. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.